Sei pronto a regalare ai tuoi clienti innovazione e semplicità? Fidelizza i tuoi contatti e acquisiscine di nuovi. A Cava dei Tirreni c'è SCF Group. In una città a vocazione turistica, così come lo è Cava dei Tirreni, manca un servizio fondamentale come quello dei taxi. Sono numerosi infatti turisti che giungono nella valle metelliana, soprattutto nel periodo estivo, affollando le strutture ricettive presenti sul territorio. Molto spesso situate nelle frazioni o comunque lontani dal centro cittadino. E così, periodicamente, rispunta un problema annuso e che si fa fatica a risolvere. La mancanza del servizio adeguato alla necessità di turisti, anche stranieri, presenti o di passaggio in città. Nei giorni scorsi, in un noto ristorante del centro, ad esempio, un gruppo di persone che soggiornava all'hotel situato nei pressi dell'uscita autostradale, dopo aver cenato, ha chiesto al ristoratore informazioni per avere un taxi per poter far rientro in albergo. Non essendoci taxi disponibili a Cava, il proprietario del ristorante, considerata anche l'ora tarda, ha accompagnato i clienti in hotel con mezzi propri. La stessa problematica si presenta ai turisti che alloggiano in strutture ricettive dei comuni limitrofi e che intendono visitare Cava dei Tirreni in orario serale. Se all'andata è possibile usufruire di mezzi pubblici, il ritorno risulta essere più complicato, soprattutto dopo una certa ora. In questi casi, il servizio taxi risulta di fondamentale importanza. Per questo motivo, facendosi portavoce delle stanze di alcuni esercenti pubblici della città metelliana, il presidente della Confesercente Aldo Trezza ha protocollato a Palazzo di Città una missiva con la quale chiede all'amministrazione comunale di indire un tavolo di concertazione per trovare una soluzione alla problematica. In realtà, nei mesi scorsi era stato bandito un concorso per il rilascio di due licenze taxi. A quanto pare, a distanza di pochi mesi, i due vincitori del bando avrebbero riconsegnato le licenze al comune.